È evidente che nelle scelte che sono state fatte, che non sono partite oggi come è ovvio che sia, giustamente c'è un progetto in campo, dovevamo inaugurarlo, poi è venuto Del Rio perché ci fu un piccolo problema tecnico in quel caso, la metropolitana, quelle stazioni della metropolitana possono fare di Napoli la metropolitana oggettivamente più bella del mondo. È anche un elemento da vendersi a livello comunicativo o a livello internazionale, non sottovalutiamolo. E quindi il fatto che ci siano tutte le risorse necessarie a completare questo passaggio è un elemento di grande rilievo, di grande valore. Il fatto che ci siano le scelte già fatte in passato ma da valorizzare e finalmente da realizzare oggi su Scampia in primis, sono secondo noi un punto di qualità della buona amministrazione a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale, perché se riusciamo a mostrarci su questo capaci di fare un lavoro serio e rigoroso, sarà un bene per gli abitanti di Scampia ma sarà un bene per tutti quelli che hanno solitamente stereotipi e pregiudizi nei confronti del mezzogiorno.